ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vedremo come completare la sfida che richiede di eliminare iron man le stark industries ossia questa nuova e grande località che vedete qua in alto praticamente con l'aggiornamento di oggi di fortnite è stata aggiunta una nuova località o punto di interesse vedete non potete sbagliarvi perché si vede già dalla distanza dove potete trovare un nuovo boss ossia iron man che come il doctor doom è abbastanza diciamo aggressivo e questa sfida ovviamente non può essere completata in lista squadre quindi dovete giocare in singolo coppie o squadre quello che dovete fare è eliminare iron man detto così suona abbastanza semplice ma in realtà non lo è perché insomma se arrivate da iron man disarmati o con armi non adeguate fate una brutta fine considerando che come potete vedere c'è uno sciame di giocatori che ovviamente va da iron man quindi la sfida è abbastanza complicata vedete ce ne sono davvero tantissimi di giocatori quindi il primo che arriva lo ammazza si prende la sfida ora il mio consiglio è magari di attendere qualche giorno che si calmano un po le acque per fare la sfida la posizione di iron man purtroppo cambia sempre quindi non non posso dirvi è qua oppure è là cambia sempre quindi dovete essere anche voi fortunati a beccarlo però quando magari sentite tipo delle scariche potenti che che vi vengono incontro è perché iron man è nei paraggi la località è questa eccolo qua iron man siamo stati pure fortunati ecco sono sfortunato sono morto va bene comunque il senso della sfida è questo dovete atterrare in questo posto qui entrare nelle stark industries e ammazzare iron man quindi